Dopo la pausa estiva, Canale 5 riporta sullo schermo La Rosa della Vendetta, la sop'opera turca che ha tenuto milioni di spettatori con il fiato sospeso. Ma attenzione, quello che sembra una semplice storia d'amore, nella seconda stagione si trasformerà presto in una spirale di passione e odio, dove i protagonisti, un tempo nemici, scoprono sentimenti pericolosi e travolgenti. La loro attrazione potrebbe costare molto più del semplice cuore. Scopriamo insieme cosa succederà. Come prevedibile, Gulcemal sarà centrale anche nella trama delle prossime puntate della Dizi Turca, che tornerà in onda a partire da domenica 1 settembre in prima serata. Sain si renderà protagonista di un gesto molto particolare, che non passerà inosservato, e che riguarderà la sua odiata madre Zafer. Una scena toccante, che lascerà il pubblico a bocca aperta. Gulcemal, che nelle prossime puntate si ritroverà a fare i conti col suo passato e con alcuni demoni che non lo hanno mai abbandonato. Ci sarà una scena molto toccante, durante la quale Sain si recherà al cimitero a fare visita a entrambi gli ex mariti della madre Zafer. Gulcemal si avvicinerà alle tombe del padre Saim e del secondo marito di Zafer, Mustafa, che lui stesso ha ucciso quando era un bambino. Gulcemal inizierà un lungo monologo durante il quale aprirà il suo cuore, raccontando al defunto Mustafa di essere tornato in città per vendicarsi di Zafer e di avere come alleato Armagan, suo fratello, figlio che non ha mai riconosciuto. Gulcemal ammetterà di essersi pentito di aver ucciso l'uomo, ma non dimenticherà che anche Mustafa ha avuto le sue colpe, unendosi ad una donna già sposata e con famiglia. Al termine del discorso, Gulcemal si volterà verso la tomba vuota della madre Zafer e lascerà una rosa. Spazio anche alle vicende di Gulendam, che terrà nascosta la verità sulla sua gravidanza, ormai interrotta. La ragazza temerà che Mert possa scoprire tutto durante la visita ginecologica, ma Vef arriverà in aiuto della sorella di Gulcemal corrompendo il medico e facendosi che la bugia di Gulendam non venga a gala. Se vuoi il continuo della storia scrivi il sì. Lascia un bel mi piace e condividi il video. A presto.